Ragazzuoli, se volete sempre restare aggiornati sul mondo del calcio, in particolare su gol, trasferimenti, formazioni in anteprima quando gioca la vostra squadra del cuore ma anche molto altro, scaricate OneFootball, lo trovate in descrizione, il secondo link, bella! Abbiamo comunque una rosa, voglio dirlo da subito, molto competitiva. E' già avanti la Roma! Gomez! Il pareggio dell'Atalanta, inserimento! Intanto per cambiare, il Milan in vantaggio, lo lascia Gabi dentro ancora! E' finito! E' finito! E sì, visto che ve lo state chiedendo tutti, se non riuscite a seguire il mercato in live, il giorno dopo caricherò i momenti salienti sul canale.